salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi ce ne andiamo col gruppone di gomma liscia di nepi al monte livada appuntamento per le ore 9 da fluido quindi adesso facciamo un passaggio da italia al bar prima di andare da fluido e poi ci andiamo a peccare con gli altri ragazzi quindi ci vediamo tra poco ragazzi abbiamo appena fra si fratto abbiamo appena fatto la prima metà di colazione perché giustamente adesso c'è appuntamento alle 9 da fluido per fare colazione quindi io mi sono preso un succo di frutta qua da Ilaria e mo' di là mi prendo il cornettino così un po' e un po' un po' e un po' e poi ci andiamo a fare sto girone al monte livada ragazzi che tra l'altro ci siamo già andati con Ilaria se non sbaglio avevo anche fatto il video no? avevo fatto uscire il video se non erro ma è passato qualche mesetto forse da quando ci sono andato ma da quel che mi ricordo la strada tanta roba merita molto flow bella veloce secondo me oggi ci si diverte un bel po' ragazzi eh poi con questa giornata che è uscita dopo ieri che ha fatto l'acqua e vabbè purtroppo dovevo tra l'altro c'avevo anche il concerto dei Baustel che è stato rimandato a oggi quindi oggi pomeriggio si andrà verso le parti di Terni diciamo a vedere i Baustel e niente ragazzi ci vediamo al bar al punto di ritrovo e poi lungo la strada per i curvoni tanto attenzione questo mette la freccia all'ultimo eccoci qua ragazzi siamo un bel po' oggi eh donnamo? se fa prima te qua mi sa no? ci mi metto per ultimo se non per ultimo veseguo a Montelivata? Montelivata? da qui eh donnacce però sono stato fuori per lavoro eh quindi ora appena finisce agosto tanto io gli ho cambiato solo filtro e scarico il terminale non gli ho affatto il completo e i cosi non c'avevi tu queste cose di merda che? eh beh quello lì mi sa che c'ava tutto dentro lo scarico si infatti dovevo portarcela a mappare ma solo che sono stato un picciato col lavoro io ho trovato un arrof usato da poco a mille dopo ma la compro eh quindi chiedono un sacco di sordi poi eh oh c'ho pure io sti quanti? il terminale a capro io c'ho quando ho 3.300 eh ma solo il terminale ma questo ho 6 e 6 eh perchè il termignoni no ah finalmente inizia il tratto un po' più guidato attenzione che c'è qualche parte un po' umida guarda sto matto ah 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 Grazie a tutti. Finalmente si sta aprendo anche il cielo, almeno così sembra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Vicovaro. Ok, ora siamo sotto regime di safety car praticamente. Vabbè aspettiamo l'altri dietro intanto. Ci siamo ragazzi sulla salita per il Monte Livata. Grazie a tutti. Madonna pure questa regata di strada, sto pezzo è uno spettacolo. Puro gotimento. Casolo sta attenti che non ci siano i caramba, perché qua ci si mettono. Vabbè aspettiamo. Grazie a tutti. Penso che il divertimento finisca qua, perché adesso c'è la carovana di moto. quindi presumo che i giochi finiscano qua, anche perché tra l'altro, come si vede benissimo, hanno fatto dei lavori qua, quindi l'asfalto è assente in questo punto. Tutta a breccia era. Qua in teoria dovremmo girare a destra. Qua in teoria dovremmo girare a destra. E infatti. Monte Livata, Campo dell'Osso. Ci stanno certi tratti qui, raga, mamma mia, sono proprio fragili. Cioè, proprio bagnato completamente. Soprattutto le parti all'ombra. Soprattutto le parti all'ombra. Devo dire che fa anche fresco qua. Guardate qua quanto è bagnato. Soprattutto le parti all'ombra. Mamma mia, ma chi è? E il signore non ce la fa più. Portatelo su con l'ambulanza. Dai, insistisci, signore, insistisci. Quello che si stava incazzato per fargli la foto. Vai là, vai là, porco dottrina sull'erba. Che to' da fare la foto. Abbiamo fatto un pranzetto. Fettuccine a ragù di cinghiale bianco con porcini e scagli di parmigiano. So delicious. Delicious. Come dice Giorgione. E adesso si ritorna a casa, ragazzi. Senti, che odorino. Nice. E a snotizzare. Uno solo è un belice. No, 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 no... No, 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 no! Questa! Grazie a tutti. Ragazzi anche per questo video è tutto, io come sempre spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un like, un commento, se volete potete trovarmi su Instagram trovate il link qui sotto e su Tonit come Mario90. Ragazzi anche per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie a tutti.